L'estensione della rete TNT sulla dorsale adriatica e dunque anche in Abruzzo è oggi una realtà, grazie anche al lavoro portato avanti sin da lontano 2015 dalla giunta ad Alfonso. È stato lo stesso senatore abruzzese, oggi presidente della Commissione Finanze del Senato, a ricordare in conferenza stampa il lavoro portato avanti negli anni scorsi e che sembra aver dato i frutti sperati. Se non ci fosse stato Iakovic, espressione del Partito Liberal Democratico che si è messo a mediare tra i popolari una famiglia amplissima all'interno della quale c'erano anche i contrarianti del nord, dei paesi frugali e i socialisti, Non ci saremmo riusciti poiché il 28 di ottobre del 2015 il voto fu favorevole a larga maggioranza grazie alla mediazione di Ivan Iakovic Istriano, liberal democratico, appassionato di Euroregione Adriatico-Ionica, e spiegò che l'estendimento delle reti TNT sulla dorsale Adriatico-Ionica non era un raddoppiamento, non era una opera duale rispetto a quella del terreno che l'Italia aveva già. Quindi non era uno spreco perché era un'infrastrutturazione della macroregione che ha a che fare con l'acqua dell'Adriatico. Dunque è un fatto nuovo che serve una popolazione di 25 milioni di persone potenziali che hanno a che fare con quest'area sul piano anche delle iniziative, dell'attività economica e della cittadinanza attiva. Su questa intuizione si determinò il voto favorevole.